Non guardate questa film, fa cagare! Dio dio cazzo! La radio, che cazzo c'è la radio? Qua sono morti i mitizi di incidenza stradale, molto morti direi! Ho la targa che è pure sparita! E lei pensa alla radio! Io so che sei stato tu, Ma per di favore! Dimmi tutto perché hai preso la targa di incidenza, o magari anche il lavoro della roba... Cos'è? Mr. Bromstrom? Sì, ehi, ciao! Sto chiamando da un fantastico video, che vacanze come te so, e sto qui sulla piscina. Vincent, non dire cazzate, che si vede che è il numero del telefono aziendale, e quindi non sei in vacanza e si vede il benissimo! Sì! 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 Comissario! Sì! 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 sul semaforo e si illumina tutto come attivenza piuttosto vieni un po' quella cosa delle targhe commissario non si può anche qui qualcuno ha tolto le targhe commissario tutte quante cazzo merda cazzo merda le targhe eeeh paese come al solito io ci riprendo il pomeriggio libero e richiede il somerà in comando e le tue io andrò a fare quella bine e accercherò un colpevole ma bordo puttana ci serve qui e ora e subito un cazzo di colpevole scavettati a casa perchè mi è venuto un'idea a 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